Ciao ragazzi, cosa sto facendo secondo voi? Mi sto sottoponendo a quello che io più amo, il trattamento di medicina estetica che si chiama bio-revitalizzazione. Lui è il mio medico, è un medico estetico, si chiama Antonio Marcionò. Antonio Marcionò saluta, lo so che sei impegnato quando lavori. Buongiorno a tutti. Cosa sta facendo il medico in questo momento sta assegnando dei punti che servono ovviamente a lui come base per la biostimolazione, per queste piccole punturine che io ritengo anche indolore. Allora questa biostimolazione è un po' più duratura, un po' più consistente rispetto alla biostimolazione normale. Vi ho già detto in un precedente video che io amo questo tipo di trattamento perché ritengo molto naturale e ritengo aiutare la pelle in idratazione, in compattezza e resistenza. Questo proprio è specifico prima dell'estate, quindi è un trattamento che serve a prepararci a preparare la nostra pelle preesposizione solare. In che senso è più duraturo e in che senso ci aiuta a preservare e a preparare la nostra pelle prima dell'estate? Allora il prodotto è un prodotto nuovissimo, parte dal chiamato Aquashine ed è composto da acido iururonico, amminoacidi, vitamine e poi ci sono dei peptidi particolari che riescono a dare un effetto luminosità. La tecnica è diversa dalle tecniche di biostimolazione precedenti, noi lavoriamo sui punti di ancoraggio e in parte anche sui punti che utilizzavamo molto prima. Quindi noi dobbiamo fare dei piccoli boli. Antonio mi sento molto madonna che si può fare il botox in diretta. Meglio così. Andiamo a fare dei piccoli boli in punti ben precisi, i quali poi i boli vengono distribuiti dalle vie linfatiche su tutta la zona interessata. Quindi noi abbiamo due modalità di tecnica, la tecnica a micro boli oppure la tecnica con la vocandola. Quindi casomai in un altro momento faremo vedere anche quella con la vocandola che per alcuni pazienti che praticamente sono, non gradiscono tanti piccoli buchini, possiamo fare quella con la vocandola che è molto molto meno invasiva. Quindi noi andiamo a trattare adesso dei punti ben precisi e da poi da qua partiamo, ritorniamo a fare la tecnica che abbiamo già completato un lato, quindi non c'è un echimusi, non c'è niente, un po' di arrossamento che è la vasodilatazione provocata dal prodotto. Ottimo, questa acqua shine è legata anche al fatto dell'ottimizzazione che sono 2 ml rispetto ai precedenti biostimolanti che sono da 1 ml. Quindi oltre alla qualità c'è anche la quantità. Quindi riusciamo a fare oltre che il viso, collo e decolleté. Allora ragazzi, questo è uno dei trattamenti come vi ho detto che più amo perché non ha altri lineamenti, perché lascia i tratti del viso assolutamente naturali, rinforza la pelle, rinforza il tessuto. Io lo trovo un trattamento veramente ottimo, ottimo per tutti e come vedete non è neanche invasivo. Quindi cosa possiamo dire? Possiamo dire che tutte le ragazze e anche le persone della certa età, da che età Antonio? Da 30 anni in poi possono anche farlo, certamente con modalità diverse e tempi di applicazione diversi. Ogni quanto Antonio? Una ogni 30 giorni per 3-4 volte e poi un mantenimento. Grazie ragazzi, alla prossima! Arrivederci!